Ciao ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti nel secondo episodio di Diario di un futuro doppiatore. Oggi volevo parlare un po' più di come sta andando, cioè non tutti sanno che il teatro e il doppiaggio non sono materie come la matematica o la grammatica o quello che volete, italiano, scuola, perché non c'è uno schema da seguire, sì su alcune cose c'è, tipo quelle basilari, però sono cose che vengono prese soprattutto dagli occhi, come si suon dire rubare con gli occhi, perché non c'è un libro che ti dice devi fare in questo modo, devi muovere il sopracciglio in quell'altro, non devi far tremolare la voce in quel momento, non esiste una cosa così, perché per ogni persona è diversa, perché ogni persona che viene a fare doppiaggio, a fare teatro, ha dei suoi problemi, se così si può dire, o delle sue lacune, meglio. Voglio dire, se magari uno ha una dizione perfetta e viene lì, ma ha un'espressività di un topo morto, oppure il contrario, è un'espressività fantastica, però a parli in napoletano stretto. Questo dipende appunto da persona a persona e bisogna andare avanti e studiarsi le cose da soli, ecco un'altra cosa che tutti quanti pensano sia scontata, oppure magari non ci pensano neanche, è che ragazzi bisogna fare molto lavoro a casa. Io pure pensavo così, andavo a scuola di doppiaggio, vado lì, faccio doppiaggio 4 ore alla settimana, mi basta quello, perché tanto 4 ore a settimana è un po' come fare i compiti a casa, invece no, non è così. Per quanto possa essere bello farlo con i professori e per quanto tu possa imparare, bisogna ugualmente di un po' di tempo per studiare a casa, perché il primo anno soprattutto bisogna puntarsi sulla dizione. Io tipo sto avendo un botto di problemi con la dizione, perché io pensavo di essere avvantaggiato. Dicevo, ah cazzo, beh io vengo da Roma, quindi il nostro dialetto è quello lì un po' meno marchiato di tutti, dai. Poi ho scoperto l'essere umana, poi ho scoperto l'essere umana che noi diciamo molte parole con la Z a posto della S, tipo noi diciamo forse, invece di forse, è strano per me dirlo anche adesso, tipo io apro sono e dico sono di solito e voi non sapete quante volte devo rifare la intro del canale perché dico io sono Lorenzo. No, è io sono Lorenzo. Eppure un'altra cosa, tipo sono i raddoppiamenti che noi romani facciamo ovunque, quindi noi non abbiamo problemi a imparare i raddoppiamenti, noi li dobbiamo togliere perché ne facciamo troppi, tipo sul D, noi diciamo di merda, di merda non va bene, è di merda. Poi che merda si può dire? E riguardo questo ho imparato molto in questi tre mesi e penso veramente di star facendo un bel percorso. Spero si sia visto nell'ultimo video che ho fatto. Mi dispiace di non aver trovato una parte magari a tema natalizio che mi piaceva, con magari del sincrono, perché così almeno vi potevo anche far vedere quanto sono cambiato in sincrono. E riguardo pure altre cose, ho imparato a leggere. Voi dire a leggere, cazzo, è rianalfabetta, no. Ma ho un foglio qui dove c'è scritto tutto quanto il dialogo del video di Ted che ho fatto a Natale. E quello che ho imparato a fare è che il doppiaggio non è un... Entro nel personaggio, butto lì, poi non mi ricordo a battuta. Ah vabbè, però l'ho fatta bene, quel metà anello, quindi lo lascio. No, l'anello lo devi fare tutto. Ma pure perché se tu entri e stacchi, entri e stacchi, va bene che sei un doppiatore e lo devi fare in anello e in anello, e ci sta. Ma in anello e in anello è un conto. Se tu lo fai dentro un anello, è tutta un'altra cosa. Perché lo staccare un personaggio da una scena all'altra ci sta come cosa. Ma lo staccare nella stessa scena invece no. Perché tu esci dal personaggio e una scena non verrà mai uguale. Mai. Quindi magari sei entrato in un modo e finisci in un altro. Se stoppi perché non ti va di rifare la parte prima, perché tanto l'hai già detta, è venuta bene, e allora... E poi viene invece un miscuglio di merda. Perché magari la prima parte è venuta bene a modo suo e la seconda è venuta bene a modo suo. Quindi magari sono venute bene, ma non stanno bene insieme. E quindi viene fuori una merda. Proprio una caccata pazzesca. Allora, come ogni video, io premetto che queste qui sono le mie sensazioni, le mie esperienze. E non è detto che siano giuste. Non è detto che io sia... Cioè, io non sono un professore, non sono un doppiatore professionista. Sono uno che sta studiando doppiaggio. Quindi non prendete la mia parola come Bibbia. Sì, magari vi può dare una mano, perché è un punto di vista di un ragazzo, perché di solito, parliamoci chiaro, è difficile che ci siano persone che a 40 anni si svegliano e dicono voglio fare doppiaggio. Di solito è la mia età che si va a studiare doppiaggio, almeno che non si è già nel campo. Allora lì cominci da 4-5 anni e già stai a leggio e sei un mostro, perché chi comincia a fare edizione da piccolo è una cazzata. Cioè, vai lì e per loro cambiare edizione è semplicissimo. Hanno un'articolazione fantastica. Mi stava raccontando la mia professoressa edizione che di solito noi, quando ci dice, no, non si dice sono, si dice sono e ci mettiamo mesi per imparare a dire sono e certe volte sbagliamo ancora, mentre i bambini, così, da un momento all'altro, sono. Da quel giorno dicono sono. Non si sbagliano più. Loro non hanno problemi. Sono mostri, piccoli mostri, che guardi e dici, ok, bene maestro, insegnami. Comunque, riguardo tutto il resto, invece, il sincrono si impara molto facilmente. Io ero entrato a scuola di doppiaggio per imparare soprattutto il sincrono. Ero uno particolarmente di sua. Cioè, ero entrato e pensavo di saper fare cose. Io vengo da Roma, io ho una bella voce, non conta un cazzo. Non conta proprio un cazzo. Niente, pensavo che la cosa più difficile da fare sia studiare il sincrono, invece è una cazzata pazzesca. Ti servono più o meno un mese, due, che fai lì dentro, quindi più o meno otto lezioni, perché sono una settimana, e lo impari subito. Cioè, tu pensi la prima volta che lui ti fai minchia, questo è un mostro. Guardi il professore e dici, questo qui ti fa due personaggi della stessa scena, senza sbagliare un sincrono. Fantastico. Cioè, fantastico. Chiudi. Questo è un maestro. Invece poi, cioè, non dico che diventi a loro pati, naturalmente. Il sincrono c'è sempre da migliorarlo. Però, ugualmente, all'inizio dici, cazzo, non ci riuscirò mai. Invece, un mesetto dopo, già vedi che, che ci riesci. Ogni tanto, così, eh, due mesetti dopo, pa, 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 diventi una macchinetta. Sembra, cioè, per davvero, io ancora sono sbalordi questa cosa. Non riesco a farmene una ragione, come cazzo ho fatto a fare così. E non solo io, eh, tutta la mia classe, cioè, magari qualcuno ha ancora delle piccole falle, però tutti quanti siamo migliorati. Migliorati in un modo allucinante. Vi saluto se mi state ascoltando, cioè, ragazzi, e ci divertiamo un botto, perché, poi, abbiamo avuto maestri come Fabrizio Mazzotta, Enrico Di Troia, che ci fanno ammazzare di risate, cioè, per davvero, il doppiaggio da studiare, posso dire che, eh, è pesante, ma, eh, leggero. Cioè, tutti quanti pensano che sia una cosa facile. Non è facile, ma, te la fanno diventare facile, perché, se ti piace veramente, e ti appassioni, può essere pure, la cosa più difficile al mondo, ma, te la fanno alleggerire in quella scuola, in un modo, un modo, no, che tu vuoi, qualche cazzo di, vabbè, ugualmente, in un modo che, per davvero, è fantastico. Io, consiglio questa scuola, della Voice Art, di Roma, anche tutte le altre sedi, penso, siano così, anche perché, molti professori, vanno, a fare, insomma, a insegnare, anche, dalle altre parti d'Italia, come a Bari, mi pare che ce n'era una, e, a Torino, Milano, insomma, ci fanno un po' di giretti, e, spero che tu, che stai guardando questo video, possa cominciare a studiare in questa scuola, perché è veramente fantastica. A parte questo, comunque, abbiamo studiato anche tecniche vocali, in cui io, ho scoperto di essere particolarmente teso, quando, doppio, perché, mi hanno detto che sono abbastanza portato, che, insomma, sono arrivato un po' avvantaggiato di natura, in confronto a gente che magari, arrivava e faceva, bello, e si, ma, ma che cazzo stai a dire? Tutti quanti così, quindi, insomma, riguardo quello, per fortuna, ero abbastanza messo bene, poi ha fatto anche teatro, quindi, non era la mia prima volta, ci sono anche, ci sono anche, altre persone, nella mia classe, che hanno fatto già teatro o altro, e, sono, 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 sono delle persone veramente fantastiche, mi ci trovo veramente bene, e, niente, poi abbiamo fatto lettura, sì, ho scoperto di non saper leggere, perché ci sono varie cose, tra cui, tipo, gli elenchi, eh, le scalette, sono, 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 come, oggi mi ha preso male, non lo so, oggi sono tornato indietro, vabbè, eh, sono, sono, delle, sfaccettature, che servono per leggere, dare senso, a quello che si legge, e, sembrano cazzate, molte cose, magari le facciamo già, però, invece, non lo sono, perché, quando ti trovi a leggio, e leggi in quel modo, poi la senti la differenza, la senti, senti proprio che, sei entrato nel personaggio, e, vorrei poter portare dei video, in cui doppio qualcosa, a leggio, a casa, eh, purtroppo, non si possono fare video, a scuola, quindi, mi dispiace, ma, non posso portare niente, detto questo, spero che il video, vi sia stato utile, piaciuto, commentate, condividete, e, iscrivetevi se vi va, e, continuerò a darvi la mia esperienza, riguardo ogni tanto, nei mesi prossimi, naturalmente, eh, penso che, i video saranno sempre più, eh, rari, perché, naturalmente, all'inizio, i primi mesi, ho più da imparare, e, poi, andando avanti, avrò sempre meno da imparare, quindi, eh, magari farò un video ogni sei mesi, invece che ogni due, tre, però, vabbè, questo è il terzo mese di doppiaggio, e, sono felice, mi sta piacendo, è fantastico, consiglio tutti questa scuola, e, ricordate che ce la potete fare, perché, se ce la fanno, alcuni, che adesso non sto a dire i nomi, ce la potete fare anche voi, e, niente, iscrivetevi, lasciate like, commentate, condividete, ci vediamo al prossimo video, bye bye!